I leghisti torinesi hanno presentato in comune tre emozioni contro le liberalizzazioni. Il pacchetto illustrato dal capogruppo Fabrizio Ricca con il segretario provinciale Alessandro Benvenuto, il deputato Davide Cavallotto, riguardano le liberalizzazioni del commercio, tassisti e IMU. Con gli altri paesi del centro-destra in maggioranza al governo siamo rimasti solo noi a difendere gli italiani tartassati dalla manovra Monti, hanno affermato i leghisti. Una a sostegno dei taxisti per impegnare il sindaco a utilizzare il convertimento del 2006 del decreto Bersani che permette la turnazione in orari più flessibili e dà la possibilità ai taxisti di avere orari più consoni e più adatti ai flussi di gente che utilizza il mezzo. È una cosa che era un atto dovuto perché sono due anni che fermano i cassetti, più di due anni che fermano i cassetti e non è mai stato utilizzato. Per noi è un primo passo verso lo scempio che sta per arrivare. Mentre sugli orari di centri commerciali e dei piccoli commercianti sicuramente questa è una liberalizzazione verso i grandi gruppi, quindi daremo la possibilità a chi ha la possibilità di poter fare turnazioni in orari serali e notturni, di poter continuare a lavorare, mentre i piccoli commercianti dovranno chiudere per forza perché in questo momento non c'era liquidità per pagare le persone anche i turni di notte e i serali. Questo ovviamente va a loro discapito perché le persone tenderanno a spendere in orari diversi perché i sogli alla fine del mese saranno sempre gli stessi, ma potranno spendere soltanto più in orari diversi magari all'interno del centro commerciale dimenticandosi dei piccoli negozi. Anche ieri la Lega ha promosso una manifestazione contro le tasse e le liberalizzazioni organizzata a Milano. Le cronache oggi riportano che nonostante la piazza abbia invocato con forza e ripetutamente un saluto da Maroni Bossi abbia deciso di non farlo parlare. La Lega è compatta, è l'unica forza di opposizione a Roma, l'unica forza che sta contrastando con tutte le proprie forze istituzionali questo governo che non è stato legittimamente scelto dal popolo e pertanto deve per forza andare a casa prima che continui a fare danni. Non è di certo con questa pseudo liberalizzazione, cioè aprendo i centri commerciali qualche ora in più o dando qualche licenza in più ai tassisti o aprendo più farmacie che si risolve il problema della crisi in questo paese. Anzi si dovrebbe andare veramente a fare quel tipo di coesione che il federalismo con la riforma sul federalismo avrebbe portato a compimento.